Questo stage è nato dalla volontà mia e di Graziano di cominciare a far conoscere altri atleti che non siano i soliti nominati da tutti quanti. Robin è un atleta di tutto spessore, la sua strada è totalmente aperta, adesso avrà un sacco di appuntamenti che sicuramente dopo lui ve ne parlerà. Abbiamo l'onore e l'orgoglio di averlo nel Team Booster e come siamo soliti dire preferiamo lasciare spazio ai fatti piuttosto che alle parole. Grazie a te. E per quanto riguarda invece la tua nuova esclusiva? Noi abbiamo siglato un'esclusiva nazionale fino al 2017 per i marchi Twins, King, Booster e Queen. In esclusiva nazionale significa che chiunque lo voglia acquistare, negozi, palestre e privati passa tramite la nostra società, questo non significa un monopolio ma semplicemente siamo diventati importatori e autorizzati esclusivi per l'Italia. Graziano è il presidente della FIGAPA B, invece di FIGAPA B Puglia, un accenno al galà di domani. È arrivata la settima edizione, l'evento Extreme Fight, ci sono atleti che provengono da tutta Italia, preferiamo far combattere gente del mezzogiorno, siamo solo tristi che per problemi di lavoro Robin vada via domani mattina e non si possa fermare, ma è giusto così perché il professionismo vero significa questo, per due di mattina svegli alle 7 per andare a fare vita dura.